E' stato eseguito il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello ricadente nel territorio del comune di Civita dopo la morte di lunedì dei dieci escursionisti per un'onda anomala. A disporre il provvedimento è stato il procuratore di Castrovillere, Eugenio Facciolla, che ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissioni dati d'ufficio. Il provvedimento è in corso di esecuzione da parte dei carabinieri. Intanto i sindaci di Civita, San Lorenzo, Bellizzi, Cerchiera di Calabria e Francavilla Marittima, i quattro comuni che sono attraversati appunto dal torrente Raganello, intervengono con un comunicato congiunto in cui si legge, esprimiamo anche in questa occasione, il nostro dolore per le vittime ed il sentito cordoglio per le famiglie segnate da questa situazione. Per rispetto del dramma patito sulla propria pelle, dicono ancora i sindaci, da decine di famiglie, abbiamo sin qui inteso coltivare silenzio e rispetto. Ci dispiace constatare, esistono i sindaci, non senza amarezza, che qualcuno, nonostante il ruolo istituzionale ricoperto, abbia preferito un'altra strada, ergendosi al giudice e allontanando da sé ogni eventuale responsabilità per addossarle interamente ai comuni e quindi a noi sindaci. Abbiamo offerto la piena collaborazione alla magistratura, hanno sottolineato i quattro sindaci, l'unica titolata a far luce sull'accaduto. I primi a volere certezze siamo noi, lo si deve, dicono ancora i sindaci, a tante famiglie dall'Italia intera, ma in un paese in cui molte volte lo scarica barile è servito solo ad individuare capri e spiatori e a tenere nascosta la verità. Crediamo sia doveroso, concludono i sindaci, almeno in questa prima parte del loro lettera, evitare che questo schema si ripeta, anche per quanto accaduto a Civita. Ancora i sindaci sostengono che, prestando attenzione al meteo ed in particolare all'avviso di allerta gialla, sarebbe stato possibile prevenire quanto verificato, se ci rimettiamo ancora una volta, anche su questa sottolineatura, alle indagini, dicono i sindaci, e alle valutazioni della magistratura. In attesa di ricevere i dati ufficiali, già richieste relative alle registrazioni effettuate dalla stazione pliometrica di Cerchiara, da informazioni in nostro possesso, questa è la novità che emerge in questa lettera dei sindaci, sembra che quel giorno neppure un millimetro di pioggia sia caduto tra Civita e Cerchiara. E dunque allora c'è un problema di capire quali sono le situazioni spesso di quella che è la protezione civile della nostra regione, che più volte ha segnalato la carenza di strutture, di risorse e di mezzi. E per i sindaci è accaduto ancora di peggio. I sindaci di Civita, San Lorenzo e Bellizzi, Cerchiara di Calabria e Francavilla, infine concludono dicendo che per una volta si rifugga dallo schema dello scaricabarile per una serie e compiuta riflessione sulla funzionalità del sistema. Trovare capri espiatori è facile, eppure rapido, ma la verità, concludono davvero i sindaci, quella che si deve ad un paese intero e a tante famiglie è tutt'altra cosa.